Buon giovedì 27 agosto, concludevo la riflessione di ieri con la parola ecologia che rimane sempre lì, incombente, con una necessità anche di, non dico chiarimento, ma almeno di approfondimento, penso che non la chiariremo mai fino in fondo, però siamo chiamati ad approfondirla, a viverla intensamente questa ecologia, altrimenti diventa parola vuota, una parola slogan, purtroppo viviamo in una società che è ricchissima di espressioni linguistiche, di parole che vengono tradotte in slogan, che devono in qualche maniera suggestionare, ma non dicono nulla di significativo, suggestionato e naturalmente muovono sentimenti e emozioni, ma non toccano i punti critici che quelle parole evocano. E nel considerare la parola ecologia non posso non interrogarmi di fronte a ciò che incontro nella mia esperienza di lettura e di relazione con le persone. E prima di tutto mi interrogo sulla persistenza nel mondo degli adulti di un atteggiamento che indica nelle generazioni successive realtà da emendare, da modificare, da riportare ai valori, non ben definiti ma astratti, valori naturalmente che sono legati alla sicurezza, al rispetto delle regole, all'obbedienza. Ebbene questo mondo degli adulti che si è profuso in questi anni, in questi decenni a definire i giovani sdraiati, bamboccioni, nulla facenti, privi di ideali, naturalmente in parte tutto questo è anche vero, non possiamo negarlo, che le generazioni che si succedono sono sempre più concentrati su dettagli dell'esistenza, piuttosto marginali e insignificanti, trascorrono gran parte del loro tempo confinati nel mondo digitale, sono totalmente estranei alla dimensione politica. Leggevo sulla Repubblica di qualche giorno fa come una preoccupazione del voto americano è l'assenteismo giovanile che non trova un'offerta politica che li possa attrarre, ma sono generazioni che neppure hanno coltivato la necessità di un'offerta politica attraente e passionale. Noi spesso ci richiamiamo agli antichi splendori di una politica partecipata, ai furori passionali del 68 mitico, ma non siamo capaci di andare a un'analisi critica anche di quei furori passionali se oggi ci troviamo generazione adulta incapace di lottare per una giusta causa, per la giustizia sociale, per il superamento delle disuguaglianze nelle opportunità. siamo in posizione difensiva di diritti acquisiti che si sono trasformati in privilegi nella misura in cui non riescono a dare spazio a chi verrà dopo di noi. E dentro questo turbinio di antiche passioni che progressivamente si sono sfumate di generazione fino a una chiusura privatistica e intimistica dell'esistenza, complice naturalmente una politica che non ha dato belle immagini di sé, attraverso la corruzione, attraverso il clientelismo, la burocrazia che non ha mai voluto superare, una sette di dominio, una personalizzazione stessa della politica. È vero, abbiamo superato le ideologie ma ne abbiamo creata una di potentissima che sono tornati i sovrani. Non sono più i sovrani benedetti da Dio ma benedetti dal popolo, non cambia assolutamente nulla. Era un inganno quello dei sovrani benedetti da Dio, Dio non indica nessun sovrano. Grandi cose ha fatto in me l'onimpotente e santo il suo nome. Ha rovesciato i potenti dei troni e innalzato gli umili. In questa frase vi è l'essenza stessa di un Dio che non indica sovrani. Ma innalza gli umili, ma per essere innalzati bisogna rimanere umili. Sembra quasi una paradossalità. Ebbene quello è stato un inganno. Le monarchie teocratiche o i sovranismi populisti hanno qualcosa in comune. Quello di concentrare in una persona la potenza salvifica per l'intero popolo. Questo è inaccettabile perché questa è una ideologia potentissima ma su questa base della personalizzazione che va di pari passo con la privatizzazione della vita, con la separazione tra pubblico e privato, con una dicotomia assolutamente disfunzionale, nella quale naturalmente si può anche affermare che si può essere privatamente incoerenti e pubblicamente acclamati come portatori di valori. E allora tutto questo che cosa ha a che vedere con l'ecologia? Molto, molto. Noi abbiamo lasciato indietro, l'ho detto, e ci approssimiamo l'anno prossimo a riprendere le fila di un discorso interrotto che è quello del valore politico della sobrietà. Questo valore politico della sobrietà non è una sfaccettatura particolare dell'ecologia ma è l'essenza stessa dell'ecologia perché la polis, la città, la comunità nella quale viviamo è il luogo di impegno di valori eterni non interpretabili da una singola persona o da una singola generazione. Anche coloro i quali si trovano un'età ormai che declina verso l'anzianità e che fanno vanto di sé di essere stati i protagonisti di una stagione delle riforme, del superamento dei manicomi, di molte leggi che hanno assunto un valore intensamente liberale e democratico. Ebbene costoro, mi chiamo in causa naturalmente vista l'età, siamo chiamati noi tutti, in questo costoro siamo noi tutti, a fare una opera di meditazione. sulla nostra codardia, sulla nostra mancanza di coraggio e quella definizione delle generazioni che verranno come incapaci, privi di ideali politici, quando noi affermiamo questo diciamo una parte di verità e però diciamo una parte di verità che riguarda noi stessi. Noi siamo quelli che sono rimasti delusi dalla politica ma non abbiamo fatto nulla perché la politica fosse diversa. Noi siamo rimasti delusi per come sono andate le cose relativamente all'ambiente ma non abbiamo fatto nulla relativamente ai nostri stili di vita perché l'ambiente fosse rispettato. Certo c'è una parte poi dell'umanità che ormai è divisa in due tronconi che si fronteggiano che non ha remore nell'affermare la centralità dell'ecocentrismo, del sovranismo, dell'aggressione dell'ambiente, di tutte queste realtà che sono palesemente anti-ecologiche, che affermano in maniera assoluta la priorità del profitto e del dominio come essenza della vita stessa e questo viene ovviamente trasferito anche nelle generazioni che hanno interpretato la vita come un obbligo di ottenere il massimo con il minimo sforzo in nome del profitto. Ma questa è una realtà che riguarda le generazioni degli adulti che non vogliono mettersi in discussione, alcuni anzi sono addirittura talmente convinti della bontà della propria opposizione che ne fanno un programma politico, molto ingannevole perché gioca sulla presunzione dell'insicurezza e sull'offerta della sicurezza che è sempre liberticida. Dall'altra parte c'è l'altra parte della medaglia che naturalmente non lo dice ma secondo me in qualche maniera sotto sotto ne ha tratto, non ha nessuna intenzione di rinunciare ai privilegi raggiunti definiti come progresso. La telecologia non è un richiamo alla vita della foresta, a un naturalismo astratto, ma è una riconsiderazione degli interessi di ciascuno in nome del bene comune, non in nome di una astratta ideologia, ma in nome di un luogo assembleare nel quale è necessaria la mediazione. E questo è il valore politico della sobrietà che dovrebbe rappresentare il punto di riferimento anche dei sistemi di cura perché gran parte delle sofferenze mentali nascono proprio da questo terreno contraddittorio che non lascia spazio al senso della vita, che non sa accogliere l'irrazionalità per la sua forza propulsiva e vuole in qualche modo ricondurla a una ragione conservatrice e se l'irrazionalità è particolarmente preponderante è chiaro che usa i mezzi sicuritari per metterla a tacere e riportarla a un discorso di ragione. Una scissa dalla irrazionalità è una pura astrazione. Noi dobbiamo essere ragionevoli, non semplicemente razionali, cioè accogliere la contraddizione intrinseca alla irrazionalità della follia dell'alcolismo, dell'uso delle droghe, accettandola e contemporaneamente facendo in modo che vi sia una lettura razionale che anche se apparentemente non ci riguarda ci chiede un cambiamento. Per questo sapete sento la fatica di dover ripetere costantemente ogni giorno alle persone che incontro che quella persona sofferente è semplicemente espressione di una relazione che non è dare la colpa a qualcuno, ma è chiamare ciascuno a questa assemblea ecologica dove non c'è un sovrano assoluto che decide che cosa sia il bene e il male, ma nella quale assemblea si cerca di costruire un bene comune che richiama ciascuna delle parti a rinunciare una parte di sé, non a rinunciare assolutamente a se stessi, non è un processo di alienazione, è un processo di negoziazione fondato sulla moderazione e sulla sobrietà, non è un invito politico centrista assolutamente, perché anche in quello c'è una forma di estremismo e non è neppure un richiamo a un'ecologia che pretende di essere un contenitore onnicomprensivo. No, noi dobbiamo stare in una dimensione costantemente, anche conflittuale, ma sempre attenta a cogliere l'essenza delle contraddizioni dell'esistenza che riguardano le disuguaglianze, il rapporto con l'ambiente e naturalmente la armonizzazione delle componenti istintuali, emozionali, sentimentali, razionali e irrazionali dell'essere umano colto nel suo legame fondativo della libertà, perché la libertà è relazione. C'era una canzone che diceva che la libertà non è stare sopra un albero, la libertà e partecipazione, Giorgio Gaber scrisse un testo straordinario su questo, ma noi non possiamo lasciarlo semplicemente al testo di una canzone, per quanto bella possa essere, dobbiamo tradurla sulla pratica quando incontriamo la sofferenza, quando incontriamo anche i comportamenti trasgressivi. Ebbene, l'invito è a coloro i quali sono nei club di fare un gesto molto semplice, fare i conti con quante persone all'interno delle proprie famiglie e delle loro relazioni amicali stanno fuori dal club e quindi investire tutti gli sforzi per portarli al club, per farli partecipare gioiosamente a questo processo di responsabilizzazione collettiva che ha come fine ultimo il bene comune. Il bene comune significa anche armonizzare la presunta follia con la presunta normalità e questa è un'operazione non semplice ma che richiede ovviamente un impegno continuativo perseverante e che non si fa azzerare da piccoli obiettivi raggiunti o dalla tristezza di non averli raggiunti, ma continuamente cerca in tutti i modi di rinvigorire la gioia della partecipazione, la bellezza della partecipazione, senza avere dei risultati prefissati perché la vera ideologia è proprio nella prefissazione dei risultati. Il vero modo di vivere nell'idealità è percorrere la strada senza avere pretese di aver già definito il punto di arrivo. Buona giornata a tutti.